La giornata ha un significato importante per l'immagine che le istituzioni, in questo caso la Polizia di Stato, assieme a Corce Rossa, vogliono far apparire, quindi dare mostra a quelli che sono i mezzi di Corce Rossa e i mezzi di Polizia di Stato per il soccorso sanitario. Il mondo del volontariato in questo momento soffre e ha bisogno di persone, di nuovi volontari. Questo è anche uno scopo della giornata per richiamare attenzione alla cittadinanza. Assolutamente sì, come ha detto si tratta di un'ottima iniziativa che è stata strutturata, ideata dalla Corce Rossa e dalla Polizia proprio per mettere a disposizione della popolazione i mezzi, gli automezzi e fornire anche delle indicazioni su quelle che sono le attività, anche le attività congiunte che la Polizia di Stato e la Corce Rossa quotidianamente svolgono. È una possibilità, questa è un'occasione, un'opportunità per la cittadinanza di incontrare queste due istituzioni e per far capire che la nostra attività quotidiana ha delle cointeressenze sistematiche che sono tutte quante finalizzate al servizio dei cittadini. La Lamborghini che solitamente noi utilizziamo con personale specializzato per il trasporto di organi, è un mezzo unico in questo senso e proprio per questo motivo ho ritenuto che fosse interessante mettere a disposizione della cittadinanza per vedere anche che attività fa la Polizia. Anche questo genere di attività è tipica di quello che noi quotidianamente facciamo al servizio dei cittadini.